buongiorno è giovedì beh mio compito è leggere quello che scrive sul sito il mio dottore e commentare uno delle degnità dei tanti sfoghi che giornalmente arrivano su questo sito beh sono stato preso da due sfoghi uno di una madre che è preoccupata di una diagnosi di evitamento di cibo che hanno appiccicato anche il suo figliolo ma poi alla fine gliel'hanno attenuata dicendo che non è tanto grave la faccenda ma attenzione perché una diagnosi crea preoccupazione e per quale motivo perché è un'etichetta vedo uno o un medico fa una diagnosi una diagnosi si livello fa un medio vuol dire che c'è qualcosa che non va e quando una madre soprattutto una madre pensa che il suo figlio non è normale cioè non è come gli altri si preoccupa e la sua preoccupazione crea preoccupazione addirittura in quello in quel figliolo lì ed è questa la cosa più negativa di fare diagnosi la diagnosi fa una definizione la definizione fatta in base a una statistica cioè nelle altre persone che sono cosiddette normali cioè frequente ma è possibile che la medicina moderna debba rifarsi a Aristotele usare gli stessi schemi di Aristotele ciò che è frequente è sano ciò che è non è frequente è malato ma siamo diventati stupidi dopo Galilei è arrivato ed è come se non avesse detto nulla non si può raggiunta cosa cosa dice la medicina che presopopea ha il medico ha la presopopea che lui sa che quello che gli esce di bocca è la verità si basa su questioni statistiche la maggior parte delle persone funziona in quel modo uno, due, tre, anche cento che non funzionano uguali sono malati ma è un'epistemologia per usare una parolaccia greca che spero che il medico che si mette un camice bianco uno psicologo si mette un camice bianco ne tenga conto epistemologicamente è corretta questa impostazione siamo noi che rispondiamo alle domande delle persone non possiamo etichettando creargli noi dei problemi più grossi di quelli che hanno questo organo la vita è già programmata a vivere non siamo nati imparati quindi chissà deve insegnare agli altri a vivere e non a complicargli la vita con le etichette quindi nella prima parte alla prima sfogo rispondo così ma questa cosa mi porta anche a esaminare il secondo sfogo perché anche qui abbiamo qualcosa di molto simile e di nuovo una grossa preoccupazione ma qui la cosa è leggermente diversa e soprattutto mi dà la possibilità di dire come mai non dobbiamo fare etichette perché stranamente in questo secondo sfogo è una madre che è preoccupata del fatto che sua figlia sempre prima della classe sempre qui sempre là e si è ritrovata isolata tutte le volte all'interno del gruppo scolastico che nessuno la guarda che tutti la isolano cose di questo tipo beh è la più brava e quindi che volete cioè è normale cioè è cosa logica fa parte della vita che se una emerge soprattutto all'interno di un gruppo classe e prenda ottimi voti gli altri che sono tutti competitivi e la vedono di buon occhio e no di tutto non possono perché lei diventa lei il metro di paragone e quindi i professori giudicano gli altri in base a quel metro di paragone quindi gli altri sono ciucchi proprio perché lei è il metro di paragone per avere un buon voto e allora ancora una volta sono le etichette che ci rovinano e che rovinano la nostra vita ora che è successo? però questa è una cosa interessante è successo che ha trovato un ragazzo questa ragazza e mentre prima non diceva manco una parolaccia ora sta cominciando a dire parolacce e quando interagisce interagisce parolacce e allusioni e porno mettiamoci pure queste allusioni porno fra le righe si legge questo beh beh io qui posso dare una testimonianza di questo disagio e di come mai e di come ci si esce io per mia fortuna e per mia direi momentanea sfortuna ma ancora una volta quella momentanea sfortuna l'ho letta come una grande fortuna definitiva sono stato educato a undici anni qualcosa sono andato nel monastero di Monte Cassino il primo monastero occidentale che ha fondato San Benedetto quello che ci ha indicato in sintesi alla romana in modo pratico come realizzare i nostri desideri con una frase latina ora et labor cioè desidera prega vuol dire desiderare chiedi desidera ma poi dopo aver desiderato questo è il primo atto volta di attorno e questo organo usalo per quel per i bisogni contingenti del tuo corpo che sono di nutrirlo e difenderlo dalle cose esterne o dai pericoli esterni questo è beh per cinque anni sono stato in questo collegio non si poteva usare manco una parolaccia quando dopo cinque anni sono andato in un liceo pubblico della mia provincia l'unico liceo che era della mia provincia beh che è successo? che io non sapevo dire manco una parolaccia i miei compagni di scuola ogni tre per due dicevano una parolaccia io non le conoscevo non le sapevo e quindi logicamente che facevo? ascoltavo non dicevo parolacce stavo lì ma ecco questo posso con il mio esempio posso forse dire a questa madre come fare e a questa ragazza in modo particolare fargli un applauso e nel fare l'applauso a questa ragazza lo faccio a me e nello stesso tempo cerco di tappare la bocca i gesti e anche la testa di questa madre che è eccessivamente preoccupata bene io non conoscevo una parolaccia nei primi sei mesi che sono stato in una scuola pubblica al primo liceo classico io non ci avevo da interagire la mia fortuna è stata il fatto che i benedettini mi avevano insegnato proprio bene a tradurre a saper tradurre dal latino e dal greco nella mia classe era una professoressa che per non farci copiare alla fila dove stavo al primo banco eravamo io e un altro ragazzo si chiamava Di Giacomo eravamo più bassini dal punto di vista fisico ma i più bravi della classe sia latino greco sia altre cose beh la professoressa dava un compito a me e tutta la mia fila dietro di me faceva quel compito lì dava un compito a quell'altro e lungo la fila dell'altro facevano quel compito lì beh avevamo trovato un modo per cui sia io che l'altro Di Giacomo di passare i compiti a tutto il resto della classe ecco attenzione noi passavamo i compiti a tutto il resto della classe e per quale ragione? non per generosità ma per un sano egoismo io me lo ricordo il ragionamento che feci se passo i compiti agli altri gli altri prendono ottimi voti con la mia fatica e non è giusto ecco infatti la mia prima obiezione fu questa che non era giusto e penso che fosse anche quella di Di Giacomo perché anche lui all'inizio non era tanto propenso a questa cosa ma poi io pensai egoisticamente amico ma che te ne frega loro hanno bisogno di te tu hai bisogno di loro per stare insieme per uscire per andare e allora facciamo uno scambio tu gli passi la versione fatta e cerchi anche in modo che la professoressa non se ne accorga di questa manovra e quando esce sicuramente avrà degli amici acquisti meriti presso gli amici come si fa ad acquistare meriti nella vita facendo uno scambio tra i bisogni degli altri i miei bisogni e se io ho mezzi e qui devo ringraziare i padri benedettini che mi avevano dato questi mezzi per colmare un bisogno dei miei amici che quando c'erano le versioni latina e greca avevano delle grosse difficoltà e io che non sapevo manco una parolaccia e come questa ragazza che ora ha imparato a dire le parolacce rischiavo di essere isolato e rischiavo di essere isolato se non avessi avuto l'idea geniale di scambiare quello che avevo con quello che avevano i miei compagni di scuola è una genialata questa qui vale più del fatto se so fare o non so fare se sono bravo o se non sono bravo noi nel rapporto con gli altri dobbiamo essere bravi in questo a capire la genialata vera se sono il primo della classe devo imparare una cosa a vivere da primo della classe non a suscitare odine gli altri proprio perché sono ma è giusto che si incazzino con me vogliono fare le stesse cose io ci riesco loro no per giunto vengono classificati imbecilli in base al metro che il professore prende e mi prende ad esempio come metro nel loro confronto oh hanno ragione o no prendersela con me si che hanno ragione chiaro? allora se io sono veramente il primo per essere seriamente il primo dobbiamo imparare in tutte le situazioni non ad essere il primo e una delle situazioni in cui ho imparato ad essere il primo era che per essere primo dovevo sapere che bisogno avevo io ora se non avevo affatto bisogno di uscire di trovare amici di passare del tempo cosa che è difficile che noi essendo animali sociali possiamo non aver bisogno di questo è molto difficile ma c'è qualcuno che può avere non avere questi bisogni questo però devo dire che ora che ho 80 anni non ne ho più bisogno proprio e posso camminare sulla mia strada senza aver bisogno di interagire con nessuno anche perché a quel punto che succede quando hai 80 anni che qualcuno interagisce con te non hai più bisogno di andartela a cercare è da tempo che hai imparato che non hai bisogno di andartela a cercare hai bisogno solo di vivere e di interagire con la vita secondo i bisogni che la vita ha e secondo i bisogni che il mio corpo che fa parte della vita ha devo essere bravo nell'intero scambio guardate un po' allarghiamoci lo sguardo guardiamo un po' tutte le società basate sul commercio e nell'ultimo nel 1900 nel ventesimo secolo noi abbiamo fatto un'esperienza globale fra la società basata sul commercio e la società basata sullo stato o su ciò che era giusto o su ciò che era sbagliato il marxismo aveva creato due stati potenti lo stato comunista sovietico e dall'altra parte gli stati liberali occidentali in questa lotta di 70 anni in questa rivalità di 70 anni che ha portato avanti sia l'unione sovietica facendo facendo la gara con l'occidente circa le scoperte scientifiche oppure ha fatto la gara per andare sulla luna dove inizialmente avevano anche vinto i sovietici poi sta cosa si è attenuata e a un certo punto è crollato tutto l'impero sovietico ed è crollato nel suo tentativo di lottare contro l'occidente basato esclusivamente sul commercio solo la Cina si è salvata che ancora una volta è un impero marxista ma guardate perché si è salvata perché a un certo punto la Cina è tornata non ad essere uno stato granitico che voleva controllare tutto e soprattutto che voleva la solita storia che il proletariato che non ci fosse ingiustizia all'interno della società ma è tornato sulla via del commercio del commerciare per commerciare il commercio è basato su un'intuizione o meglio sulla pratica dell'uso della mia mente il più adatto possibile alla vita per commerciare la mia mente non può deve essere non attaccata a ciò che vuol vendere deve amare ciò che vuol vendere lo deve amare dal punto tale da saperlo presentare a chi lo vuol comprare di presentare tutti i pregi tutte le cose importanti ma poi lo deve vendere in cambio di che? in cambio di mezzi per continuare a fare la stessa cosa per allargarci sulla stessa cosa però attenzione alla base di una società commerciale c'è un'intuizione di saggezza cioè quest'orgono all'interno di una società commerciale funziona è adatto a una società commerciale non è adatto a una società basata sulla giustizia manichea di ciò che è bene per evitare ciò che è male il crollo dell'Unione Sovietica del Stato è dovuto a questo demone del manicheismo di ciò che è bene di ciò che è male le sconvitte a sinistra che si sono ripresi dal punto di vista politico eh i sinistroidi ancora non ci credono sono basate ancora una volta su questo eh perché i sinistroidi sono diventati non più marxisti tutt'altro quella frase che dice il mondo che dice Marx il mondo non va soltanto interpretato capito ma va cambiato l'hanno presa eh non l'hanno letta bene eh li ha fatti diventare tutti degli illuministi e dei manichei cioè che esiste un bene eh da perseguire che bisogna andare un dovere essere e per evitare quello che non deve essere il male cioè perseguire il bene per evitare il male ma questo eh puzzava di illuminismo e puzza di morte e se ci ricordiamo l'illuminismo l'illuminismo portato a Robespierre alla ghigliottina è attentativo è violento questa cosa qui è violenta ma guardiamo un po' anche sull'altra ecco già nelle definizioni noi siamo illuministi e in questo continuo modo di definire le cose in base a uno schema questa è violenza per cui questa ragazza hm che è stata la prima della classe è stata isolata hm la madre si è disperata beh è veramente geniale questa ragazza ha capito che per potestare e per poter essere accettata doveva imparare hm il linguaggio dell'altro hm la madre gli aveva insegnato a non dire parolacce i modaggi benedettini mi avevano insegnato a non dire parolacce dopo sei mesi che io non riuscivo a parlare hm con i miei amici hm o con quelli che eri che mi stavano attorno e mi cercavano beh dopo sei mesi queste persone con cui stavano insieme due si misero a offendersi l'uno con l'altro e mentre si offendevano si animava questa discussione al punto tale che tutti i miei amici si alzarono cercarono di dividerli e appena cercarono di dividere questi due hm li guardarono in faccia e fanno ha ha ci siete cascati ci siete cascati e li presero tutti in giro oh questa cosa per me fu illuminante disse ah ma allora quando dicono le parolacce hm o si mandano a quel paese e si insultano attenzione eh l'insulto non c'è po' in quest'epoca e bisogna dire una parola si e una no ma che razza di luministi siamo diventati ma siamo diventati scemi del tutto hm eh ah faccio io ma allora la parola se io tu sei un mio amico ti dico che sei scemo questa parola sceme è un'offesa hm si però tu sei mio amico hm e se sei mio amico devi capire che vale più il fatto che tu sei un mio amico che l'uso di questa parola hm potenzialmente offensiva hm quindi se tu sei mio amico hm prendi questa parola come hm un qualcosa hm priva di senso di significato significato vero che tu sei mio amico quindi se tu sei mio amico e non dai peso hm al significato letterale di questa di questa parola hm eh non te la prendi perché non è una parola diretta a te come persona è un pur parler un un parlare per passare il tempo e non sentirsi vincolati da nessuno schema preconcetto se sei mio amico qualunque ti posso dire qualunque cosa anzi mi devi lasciar lì per dirti qualunque cosa e tu non te la devi prendere perché tu sei mio amico hm infatti dopo quella serata lì in cui questi presero per i fondelli tutti quelli che se ne erano preoccupati e arrivai a questa riflessione che non debbo eh vedi la persona ben educata lega strettamente hm il suo pensiero la sua intenzione buona a una parola hm no ma la la mia persona le mie intenzioni i miei sentimenti veri li devo slegare dalle parole hm le parole sono parole hm ma se io leggo devo sto lì a sentire hm e a vedere se tu mi sei amico e tu sei mio amico quindi non ti posso dire che sei scemo ecco qui è il disastro e questa ragazza penso hm che sia seriamente geniale hm e che a cominciare a dire parolacce finalmente riuscirà a a trovarsi gli amici che non si è mai trovato ma guardate un po' sua madre è preoccupata di questo cambiamento hm io non sono preoccupato hm e sto dicendo che questa ragazza finalmente ha trovato la sua strada per stare insieme agli miei e probabilmente ha pensato seriamente hm che doveva superare l'educazione familiare che dice della buona educazione basata su sulle parole hm sulle etichette su hm su quello che io chiamo monsignor della casa hm i buoni comportamenti hm e si va verso un rapporto autentico con l'altro è conseguenziale con l'altro che se l'altro è il mio amico è il mio amico per qualunque cosa non perché si comporta così colà hm perché mi sta bene è come in amore hm al di là di qualunque sua divergenza differenza da me perché lui è il mio amico lei è la mia donna lei è colei che amo hm al di là di com'è e di quello che dice e di quello che fa e mi muovo così hm e tutto il resto vale nulla e non posso legare hm i miei sentimenti hm non li posso subordinare a una parola buona o a una cattiva ma guardate un po' che cosa sta avvenendo nella cultura moderna si fanno le pulci alle parole e non si fanno le pulci hm alle intenzioni delle persone ai fatti no valgono più le parole che i fatti questa parola non si può dire quest'altra si può dire questa parola non va bene quest'altra parola non va bene questa parola è offensiva questa parola è un insulto e se tu hm e si perde la base della vita allora hm ora hm nel 1980 l'ordine mondiale della sanità finalmente disse una cosa decente hm scientifica cioè aderente a ciò che è disse che l'omosessualità non era una malattia non ci piove infatti non è una malattia è un apprendimento è un apprendimento questo vi dice il colai anni eh tenete conto di questo è un apprendimento anche un facilissimo apprendimento hm soltanto hm che dal 1980 hm è cominciato un disastro culturale invece di dire che è un apprendimento ci sei nato per cui tutti i sinistri contro sinistri tutto tutta quella hm quelli che fanno i sinistri hm e stanno sinistrando il mondo e stanno facendo quello che non volevano fare nelle intenzioni hm che dicono che non puoi dire a un omosessuale che è omosessuale sei omofobo e perché non posso hm non posso manco dire a un mio amico sei hm sei frocio ma noi fra ce lo siamo sempre detti hm lo dico ancora a qualche mio amico che è gay tutte le volte hm non è gay gli dico che è gay hm e ci pigliamo per i fondelli su questo piano hm allora dov'è il punto hm ma perché questa terribile discriminazione un gay è un uomo come me capace di apprendere nato hm del tutto ignorante del tutto indifeso anticappato e ha dovuto apprendere come me io ho appreso ad andare appresso alle donne e lui ha appreso ad andare appresso ai maschi non c'è distinzione fra me e lui hm ma se ma se si dice che quello c'è nato ed è questa la cosa a cui voglio farvi arrivare è chiaro che lo sto ghettizzando proprio io dicendo che c'è nato lo sto escludendo da quella che è la caratteristica fondamentale di un uomo quella di imparare tutto il contrario di tutto hm e beh imparare a fare il gay come imparare a fare colui che va appresso alle donne hm la via è la stessa la sessualità da piacere i miei organi sessuali reagiscono col piacere hm a qualunque mano toccano toccano i miei organi sessuali siano essi femminili o maschili dopo un po' avviene un'associazione qui in questi cento miliardi di cellule c'è il piacere che mi ha dato una mano hm di donna e il piacere che mi ha dato una mano di un maschio scusa stesso organo mio hm alla fine che succede ma impariamo impariamo la stessa cosa se una mano di donna ha toccato i miei organi sessuali mi ha dato piacere questi organi sessuali non vedono eh sentono e stranamente hm la loro reazione è quella del piacere hm quindi sia che è una mano di un maschio che è una mano di una femmina a un certo punto hm se prevale il contatto di una mano di una femmina io andrò appresso alle femmine se prevale il contatto e il piacere hm della madre di un maschio io andrò appresso al maschio perchè ho appreso questo ma io sono un uomo hm che ha un'enorme capacità da apprendere e la sessualità e si apprende con i rafforzamenti e con gli evitamenti di ciò che è stato bene o di ciò che è stato male provate hm a mettere in discussione questa tesi che noi apprendiamo hm e apprendiamo qualunque cosa in base ai rafforzamenti hm di ciò che è bene che può essere il piacere o di ciò che è male che può essere un dolore o un dispiacere anche se molte volte hm non siamo così bravi come gli animali no avendo una mente umana cercando di rendere permanente ciò che permanente non è noi aggrovigliamo tutta questa faccenda buongiorno che vi devo dire? eh? sorcini come vi devo chiamare? hm? vabbè le parole sono parole i fatti sono fatti è un fatto hm? che diventiamo omosessuali dobbiamo scoprire la ragion d'essere di quel fatto e la ragion d'essere non è che ci sono nato eh perché noi siamo esseri che apprendiamo questo su questo non possiamo discutere noi siamo esseri che apprendiamo punto quindi possiamo apprendere qualunque cosa non è che non è che non è che Grazie.